Gustavo, dove siete? Il nostro Rocher sta ormai per finire. Signor Barone, sono bloccato in un ingorgo. Bisognerebbe poter volare. Volare? Ah. Credevo già che fosse rimasto senza Rocher. In una casa come questa le cose buone non finiscono mai. Un momento, non ha per caso una fabbrica di Rocher in cantina? Ferrero Rocher. Noblesse oblige.